Sono Chiara D'Abbari e ho deciso di partecipare al progetto Una Quisa per la Pace. Leggerò una quisa che ho scritto io. Non andate e non tornate, dalla guerra vi prego scappate. Così gridava il bambino che alla guerra era vicino. Un comandante, un importante della guerra su carta, era un amante. E' bella, diceva. Ripulisce la terra, aggiungeva. Non muore nessun innocente, muore solo un nemico indecente. Un giorno il governo la guerra annunciava e il suo comandante richiamava. Bombardiamo e conquistiamo, tutti i confini ci prendiamo. Ma una bomba intelligente colpì solo tanta gente. Un bambino con il petto bruciato guardò verso il cielo illuminato. Ho un dolore, prendimi signore. Passava di lì un dottore, prese tra le braccia il bambino e lo portò nel suo cuore. Lo voleva salvare. Nel suo ospedale era messo male. Una bomba intelligente non aveva lasciato niente. Aveva colpito ogni paziente, ogni cura, ogni ambulanza. E distrutto la speranza. Il comandante guardò la sua guerra di carta. Aggiunse una croce sull'ospedale che non doveva finire male. Scrollò le spalle e pensò, la prossima volta un po' meglio la farò. Grazie. 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 Grazie.